Maxi blitz della polizia stradale, triplice arresto in autostrada, sequestrati 38 fili di hashish. Polizia aggredita a Pesaro in pieno, centro storico, lancio di oggetti e morsi contro gli agenti. Cambio di vertice per l'arma dei carabinieri di Pesaro e Fano, i nuovi comandanti si presentano alla città. La festa della protezione civile delle Marche in piazza del popolo, oltre 2.500 i presenti. Grande successo per la quattordicesima edizione del Benelli Week tra moto spettacolo e il memorial per Baronciani. Un saluto a tutti i telespettatori di Rossini TV, ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è lunedì 23 settembre e apriamo questa edizione parlandovi di un maxi blitz condotto dalla polizia stradale di Fano che ha sequestrato 38 chili di hashish sul tratto autostradale pesarese dopo aver fermato una vettura che andava a grande velocità diretta verso il sud e vedendo l'agitazione dei passeggeri, un uomo e due donne ha effettuato ulteriori controlli, scoprendo così il carico di droga che è finito poi sotto sequestro. I tre soggetti sono stati arrestati e portati in carcere in attesa di processo. Ed ora parliamo di un altro intervento della polizia venuto in centro storico a Pesaro che ha visto due agenti aggrediti da un 32enne. Non è bastato nemmeno il taser a placare l'uomo. Vediamo. Porta tovaglioli lanciati contro la polizia e morsi agli agenti da parte di un 32enne italiano. Inizia così la domenica mattina a Pesaro, intorno alle ore 7, quando alle forze dell'ordine viene segnalata una persona che sta prendendo a calci l'ingresso del bar Capris in piazza dei Lazzarini, pieno centro storico cittadino. Una volante si reca sul posto e cerca di far calmare l'uomo che però minaccia gli agenti di morte e poi lancia contro uno di loro un portatovaglioli, ferendo il poliziotto alla testa. Gli operatori estraggono quindi il taser e intimano nuovamente all'uomo di calmarsi, ma non c'è nulla da fare. Così esplodono i colpi che immobilizzano solo per un attimo il 32enne che dopo essere caduto a terra si sfila ai dardi di dosso e morde l'altro agente che si era avvicinato e che nonostante indossasse il giubbotto, riporterà comunque una ferita da sanguinamento. Infine riescono ad ammanettarlo e metterlo in sicurezza. Sul posto arriva il 118 che soccorre i due agenti ai quali vengono diagnosticati 5 giorni di prognosi per danni alla testa e morsi. L'uomo invece, identificato, risulta essere noto alle forze dell'ordine. Si tratta di un soggetto psichiatrico. Per questo non è stato arrestato ma portato in ospedale, dove si procederà per un TSO. Dovrà poi rispondere di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Rimaniamo sempre in tema di forze dell'ordine parlando però questa volta dell'arma dei carabinieri, visto che dopo l'annunciato cambio di vertice a Pesaro e Fano si è tenuta la presentazione alla città dei due nuovi comandanti. Cambio di vertice per l'arma dei carabinieri di Pesaro e di Fano che viene ufficializzato con la presentazione dei due nuovi comandanti, rispettivamente il colonnello Maurizio Petrarca ed il tenente Giuseppe Esposito. Vicinanza al territorio, attenzione al riciclaggio e prevenzione sono i tre punti focali del loro discorso. Di questo territorio caratterizzato dalla presenza di una popolazione molto cordiale ed accogliente che rende questo territorio sicuramente accogliente, bello e ho notato anche molta vivacità anche sotto il profilo economico e questa è una cosa su cui bisogna porre l'attenzione perché un testuto economico così florido, così ricco potrebbe essere anche nelle mire di associazioni criminali che hanno intenzione magari di riciclare capitali provenienti da attività illecite. Per il resto ho notato che il territorio è molto vasto e sicuramente per porre in essere un efficace controllo del territorio. Bisognerà lavorare molto ma io in ciò sarò coadjuvato dai miei comandanti di stazione che sono dislocati capillarmente su tutto il territorio di Pesaro nonché dal nucleo operativo radio mobile che assicurerà il primo intervento al verificarsi di episodi delittuosi di qualunque natura. Sguardo puntato poi sul parco Miralfiore e le zone limitrofe o similari soggette a fenomeni di spaccio e microcriminalità. Saranno degli obiettivi che ci porremo per cercare di porre in essere delle azioni dei servizi sicuramente a largo raggio mediante i quali cercare di prevenire e reprimere tutte quelle forme di illegalità diffusa che caratterizzano questi posti. Visione simile della città anche per il neocomandante di Fano che pone la prevenzione come parola d'ordine. Una città sicura, una bellissima città, ho conosciuto le autorità locali e abbiamo iniziato questa nuova avventura. Stiamo intensificando i servizi di prevenzione per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. incontreremo le persone vulnerabili in incontri che faremo nel territorio e sicuramente quello che accrescerò è la presenza e la vicinanza ai cittadini per verificare quali sono i loro bisogni, le loro necessità e quindi aumentare il grado di percezione e di sicurezza. Ed ora spazio alle vostre segnalazioni. Oggi vi portiamo in piazza Fava, a pochi passi dall'auditorium Scavolini, dove ci sono arrivate delle segnalazioni riguardo una situazione di degrado sul piccolo spazio verde della piazza. Ci sono infatti una serie di tubi lasciati sul terreno che, da come ci raccontano i nostri telespettatori, diventano rifugio di topi, oltre che essere un punto di degrado in bella vista all'interno di una piazza che invece mira a rivalutarsi sempre più. Il tutto alle spalle dell'unica panchina dove le persone possono sedersi. E allora vi ricordiamo sempre il nostro numero per le segnalazioni, 370-366-7210. Grande festa invece in centro a Pesaro, in piazza del Popolo, esattamente dove si è tenuta la giornata del volontariato dedicata alla protezione civile della Regione Marche. Oltre 2.500 a ricevere l'encomio per l'alluvione del 2022. Quest'anno si è tenuta a Pesaro, in piazza del Popolo, la festa della protezione civile regionale. Un evento che è stato dedicato al ricordo dell'impegno dei volontari in occasione della tragica alluvione del 2022, ma che è stata anche un'opportunità per ringraziarli del lavoro svolto per fronteggiare il maltempo degli ultimi giorni. È un momento molto importante perché, secondo me, la protezione civile, un po' come tanto altri mondi del volontariato, fungono anche proprio da esempio verso i cittadini, da esempio verso la società intera. Perché, vedete, oggi purtroppo sempre di più ci si chiude un po' in se stessi, si tende un po' all'egoismo, al personalismo e i social spesso sono, diciamo così, conduttori di tutto questo. Ecco, mettersi invece a disposizione fisicamente e personalmente, indossando anche una divisa, intervenendo anche nei momenti più impensabili e più improvvisi, mettendo a volte a repentaglio anche la propria sicurezza. Al servizio degli altri, ecco, credo che sia un grande esempio, non solo per sentirci tutti più sicuri, ma un grande esempio anche proprio come guida per come dovrebbe essere una società, cioè altruista, che lavora insieme, che si integra, che è a disposizione, che si mette in servizio. Questa è la protezione civile nazionale, questa è la protezione civile regionale, questa è una giornata che vuole essere appunto da esempio. Avevo il piacere di essere presente, oggi celebriamo la festa del volontario, in particolar modo della protezione civile. Li voglio ringraziare perché, innanzitutto, quest'anno ricordo che siamo capitali italiani della cultura, quando parliamo di cultura intendiamo anche la cultura della solidarietà, la cultura dell'accoglienza, ma anche la cultura del senso civico e della voglia di mettersi a disposizione per la comunità. I volontari della protezione civile rappresentano tutto questo, cioè persone, cittadini, che mettono a disposizione il loro tempo e lo mettono a disposizione a favore di tutta la comunità. Noi siamo una città dove organizziamo tantissimi eventi e devo dire che senza l'attività della protezione civile sarebbe veramente difficile riuscire a fare tutto senza di loro. È un riconoscimento anche ai tanti volontari marchigiani che in questi anni si sono impegnati, per fortuna da una parte e purtroppo dall'altra perché abbiamo avuto situazioni di difficoltà dalle alluvioni al terremoto e i volontari di protezione civile sono stati sempre presenti ed averli qua a Pesaro oggi nell'anno della Capitale della Cultura è un orgoglio particolare per tutti noi. Debo dire una cosa importante, in questi ultimi due anni dove le situazioni sono state particolarmente difficili il segnale positivo rispetto al volontariato è il fatto che sono arrivati tanti giovani, ventenni che hanno voluto e vogliono tuttora continuare il loro servizio e dare una mano alla città, alla comunità. Un weekend ricco di eventi e iniziativi a Pesaro che erano resa non solo capitale della cultura ma anche capitale di moto e motori con la quattordicesima edizione del Benelli Week che ha portato in città più di 2.000 persone. Sono oltre 2.000 le persone che quest'anno sono state richiamate a Pesaro dalla Benelli Week 2024 non solo capitale della cultura dunque ma anche capitale della moto e dei motori lo confermono a quattordicesima edizione all'insegna del motociclismo e della celebre marchio Benelli omaggiato non soltanto da una settimana in tour per le marche ma anche da feste, eventi e musica. Una dedica speciale poi con il memorial dedicato ad Augusto Baronciani noto imprenditore pesarese ma prima di tutto pilota e presidente storico del motoclub. Questa settimana è cominciata bene perché siamo riusciti a fare un bel giro lunedì e poi pian piano siamo stati ostacolati dal maltempo ciò nonostante siamo riusciti ugualmente a portare con altre vie le persone a visitare le marche siamo andati nell'entroterra a Cacciano, siamo arrivati a Camerano, Ancona e in qualche modo siamo riusciti a portare a spasso questi turisti stranieri che sono arrivati in quantità abbondante nonostante il maltempo e che ci hanno accompagnato nel cercare di vedere sempre cose nuove in giro per la regione. La Benelli Week attira gli appassionati nel mondo e tanto è vero che sono arrivati anche dall'Argentina dei signori che sono rappresentanti della più grossa concessionaria dell'Argentina e in Sud America la Benelli era tantissimo apprezzata lo è tuttora e sono arrivati anche dagli Stati Uniti quindi sì possiamo dire questo la settimana Benelli dimostra il fatto che la Benelli non solo esiste da tantissimo tempo ma addirittura è tuttora viva e prima nelle vendite in Italia è certamente una settimana fantastica non poteva essere che altrimenti siamo alla 14esima edizione che come sempre è stata una settimana partecipata soprattutto dall'amore che i stranieri hanno verso il marchio Benelli ma io dico anche verso la nostra città, verso Pesaro persone, motociclisti che sono venuti da tutto il mondo non solo dalla Scandinavia ma dall'Inghilterra dalla Germania ma anche addirittura dall'America, dall'Argentina e anche dall'Arizona beh è stata veramente una settimana fantastica sì il tempo non ci ha aiutato non ci ha aiutato sicuramente abbiamo avuto tre giorni di piogge però siamo riusciti ugualmente a trovare delle alternative alle giri in motocicletta portando appunto i motociclisti con dei pulmini nelle varie località dove avevamo previsto di andare in motocicletta la cosa più bella è quella di scambiarsi le proprie emozioni con gente che hanno tradizioni diverse che però trovano nel nostro territorio e soprattutto qui al Museo Benelli un amore infinito verso un marchio che ha reso la nostra città unica nel mondo ed ora vi mostriamo un breve estratto dello speciale che andrà in onda giovedì 26 settembre alle ore 21.40 dedicato alla convention dei soci della BCC di Pesaro Siamo a Vita da Pacos il bioparco sociale che si trova sul colle Ardittio nelle immediate vicinanze sia di Pesaro che di Fano cosa siamo venuti a fare? Siamo venuti perché ci ha chiamato la direzione di BCC Banca di Pesaro che oggi tiene qua la sua quinta convention dipendenti andremo a capire perché è stato scelto questo posto andremo a conoscerlo e farvelo conoscere andremo ad ascoltare dalla viva voce degli organizzatori di questa giornata così importante per l'Istituto Pesarese di cosa si tratta, quali sono i contenuti e soprattutto anche perché si è scelta questa location così inusuale In occasione della nostra quinta convention abbiamo portato Imi ai collaboratori e tutte le risorse umane a Vita da Pacos una cosa diversa rispetto alle solite convention dove si si aspetta una cosa formale belli hotel, bel posto e siamo andati in un bellissimo posto in Natura Natura che vuole essere un messaggio nuovo che vogliamo dare al territorio, ai nostri soci, ai clienti dove la banca incontra l'ambiente perché noi come banca di credito cooperativo abbiamo la nostra missione oltre ad essere un buon istituto finanziario dobbiamo essere anche promotori delle nuove cose che stanno succedendo nell'ambiente ma soprattutto sui rischi climatici che purtroppo non pochi giorni fa abbiamo dovuto ancora una volta vedere e ricorrere con delle emergenze importanti I ragazzi si stanno impegnando tantissimo noi siamo molto soddisfatti è una banca che vuole crescere perché vuole conquistare maggiori quote di mercato l'impegno che mette la direzione tutta la formazione che si sta facendo anche in occasione di questi momenti che sono formativi e nello stesso tempo di incontro per fare squadra noi ci stiamo riuscendo perlomeno i risultati negli ultimi due o tre anni stanno venendo e risultati importanti questi risultati importanti permettono alla banca di patrimonializzarsi e quindi di ribustirsi e di fare tutte quelle iniziative sul territorio il nostro territorio di Pesaro non abbiamo filiali, non abbiamo dimensioni che spaziano da più province noi siamo nella provincia di Pesaro e quindi questo è il nostro territorio perché le banche di credito cooperativo che fanno parte di un capogruppo devono lavorare bene nel loro territorio se lavorano bene nel loro territorio riescono a portare a casa quei risultati che le grosse banche che si spacciano per territoriali perché oggi se sentite qualsiasi intervista la più grande dice siamo una banca del territorio non è vero le banche del territorio siamo noi le BCC e le casse rurali quindi questo è il nostro obiettivo la nostra mission e cercheremo di portarla avanti il più possibile i ragazzi si stanno formando il clima è bello noi siamo soddisfatti e quindi non possiamo che augurarci un futuro buono ed ora andiamo a festeggiare con Marco Di Giorgio volto della nostra tv che ci accompagna tutte le settimane con la lettura del Vangelo in occasione dei suoi 40 anni di sacerdozio Don Marco Di Giorgio parroco di Montecchio compie 40 anni di sacerdozio per questa occasione le sue storiche parrocchie oltre a quella attuale hanno deciso di omaggiarlo con una cerimonia per poi intrattenersi con lui in una semi conviviale un'occasione nella quale il don ha ripercorso le tappe che lo hanno portato su questa strada io ho vissuto sempre praticamente in parrocchia San Giuseppe una parrocchia molto viva allora nella mia giovinezza avevamo fatto delle cose bellissime campeggi pellegrinaggi all'Urd azione cattolica tante cose e finito il liceo mi chiedevo cosa fare nella vita che studi prendere e il sacerdote da cui allora mi andavo a confessare mi ha detto ma perché non pensi di entrare in seminario io ero molto incerto sinceramente allora siamo andati insieme dal vescovo allora Monsignor Gaetano Michetti il quale mi disse una cosa molto bella guarda ma tu se vuoi fai il seminario e studi teologia però nel frattempo iscriviti anche a una facoltà universitaria non molto impegnativa perché non puoi frequentare più di tanto no? a Urbino così se vuoi fare il prete continui se no se non vedi che non è prendi l'altro treno e continui i tuoi studi così mi sono iscritto insieme ad altri due miei amici di classe della mia classe del liceo a filosofia a Urbino e quindi ho studiato tutti e due e a un certo punto però arrivato al terzo anno di seminario su cinque dicevo beh qui bisogna decidersi cosa faccio però arrivato al terzo anno e lì chiedevo al signore un segno dico dammi un segno dammi un segno ma sto segno non arrivava mai allora sempre questo sacerdote da cui ho continuato ad andare a confessarmi mi ha detto ma tu prova a dire di sì prova a dire va bene signore se devo fare il prete se mi chiami a questo dico di sì e poi vedi come ti senti è come provare un vestito e vedere se ti sta stretto o ti sta bene e allora io ecco ho quello spartiacque lì un po' che dopo il terzo anno di teologia è arrivato al quarto anno io ho detto vabbè signore se questa è la strada io ti dico di sì se va bene ecco mi ricordo che da quel momento ho avuto una pace non so come niente di straordinario però me le ricordo questi ultimi due anni molto gioiosi molto belli molto felici al che ho detto si vede che la strada è questa così nel frattempo ho continuato anche filosofia così dopo l'ho finita più tardi però non era tanto lo studio quanto la scelta di vita e quindi ancora non mi sono stancato un po' in questi anniversari si ripensa a tutto quello che è successo alla strada che hai fatto e devo dire ma sono sommerso dalla gratitudine per tutte le soprattutto per tutte le persone che ho incontrato per tutte le esperienze bellissime che ho fatto chiaramente come in ogni strada ci sono state anche non è che è tutto piano ci sono state anche dei momenti un po' difficili però i momenti difficili sono totalmente sovrastati dai ricordi meravigliosi di tante esperienze e le giornate mondiali della gioventù e tanti campeggi e i pellegrinaggi in terra santa ma anche a Lourdes ma anche in altri posti e poi le parrocchie le comunità parrocchie io ho girato ben cinque parrocchie cinque comunità e quindi è stato quindi tante persone tanti volti tante storie insomma e tanta gente che mi ha voluto bene e a cui io ho voluto bene e questo è proprio bello chi ha lasciato case, campi fratelli e sorelle per me riceverà cento volte tanto ecco io ho visto che questa parola è vera ho tantissimi fratelli sorelle amici relazioni case cose che mi ospitano pranzi che mi offrono tante cose che non avrei mai penso avuto in un altro in un altro cammino ma soprattutto ecco la cosa fondamentale è proprio questa amicizia col Signore Gesù che ti fa dire io vengo io vengo dietro a te vediamo ora una serie di appuntamenti in programma a Pesaro come quello con l'edizione 2024 di Cop Evolution il 27 settembre agli orti giuli di Pesaro con la città che diventerà capitale italiana della cooperazione l'evento inizierà alle ore 9 e proseguirà fino a sera con incontri approfondimenti e spettacoli altro appuntamento da mettere in agenda è quello con il fuoco ad ardere frase di Santa Caterina da Siena ma anche il verso che Laura Corraducci dedica all'incontro con la poesia mistica patrocinata dall'Arcidiocesi di Pesaro venerdì 27 settembre alle ore 21 nella splendida cornice della chiesa nel nome di Dio e allora concludiamo parlando di sport di medaglie perché la bacheca della città di Pesaro si arricchisce ancora grazie all'oro nel tetratron conquistato da Emanuele Gambini nella categoria Master over 50 la città di Pesaro mette in bacheca un'altra medaglia d'oro è quella di Emanuele Gambini proclamato campione del mondo di tetratron nella categoria Master over 50 l'ennesima medaglia portata a casa dallo sportivo pesarese che tornato dopo l'impresa di Budapest ha raccontato la sua esperienza dalle sfide al trionfo fino alla nomina come consigliere mondiale di pentatron a livello master sono felice e lieto di aver portato questa medaglia a Pesaro l'ennesima ma quello che è più importante è che per me il tetratron è uno sport nuovo ho affrontato una nuova sfida quella della scherma che l'ho aggiunta al nuoto e al laser run che già praticavo quindi diciamo che è un risultato per me che era inaspettato perché essendo la prima volta nei vari sport si prendono anche dei punteggi con delle penalità quindi non era facile portare a casa sicuramente questo risultato e ne sono molto orgoglioso l'emozione è stata tanta perché appunto affrontando uno sport nuovo come la scherma ho fatto la prima giornata diciamo a metà classifica il nuoto era andato molto bene ho fatto il mio personale sui 100 metri ho fatto un minuto e 0,8 che per me rappresenta un risultato molto importante perché venivo da 1,9 1,10 fatto sei anni fa quindi diciamo mi sono migliorato nonostante l'età nei master 50 appunto mi sono migliorato anche come tempo e poi tutta la gara si è giocata nel laser run che è praticamente una combinata di corse e tiro e lì mi sono addirittura sono partito con un minuto e 24 di penalità quindi capite bene un minuto e 24 è parecchio tempo doverlo recuperare su un tedesco che era alto 1,94 ex olimpionico e un francese che aveva fatto prima di me molto meglio di me a nuoto non è stato facile li ho raggiunti nell'ultimo giro dei tre e lì mi sono giocato nella corsa tutto il possibile ed ho vinto mi porto a casa una bellissima esperienza e poi fra l'altro a margine della gara c'è stata anche la votazione al board mondiale del pentaton sono stato eletto consigliere mondiale del pentaton a livello master quindi anche quella è un'ottima soddisfazione perché era una new entry un nuovo candidato al board del master e quindi avrò tanto impegno anche da dedicare al pentaton master e allora davvero tanti complimenti ad Emanuele Gambini allora restate con noi questa sera perché innanzitutto tra pochissimo un nuovo spazio dedicato alla natura della cultura questa è la settimana di Sant'Angelo in Vado e noi ve la raccontiamo tra pochissimo alle 8 quindi non perdete l'appuntamento e poi il nostro appuntamento con CECAP Obiettivo Salute alle 21.20 parleremo con il dottor Davide Cacciatori delle disfunzionalità visive e poi vi ricordo che domani ci sarà anche se giorno di festa a Pesaro perché sarà la festa del santo patrono San Terenzio noi comunque vi aspettiamo con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini e proprio nell'occasione della festività appunto del santo patrono domani alle ore 18 trasmetteremo in diretta la santa messa per celebrare appunto il patrono mentre domani sera non ci sarà il nostro telegiornale quindi il nostro telegiornale ritorna mercoledì alle 19.30 ma io vi aspetto domani alle 7.20 puntuali con la nostra rassegna stampa buona serata grazie a tutti